Buonasera, buonasera da InfoStudio, lunedì 15 giugno, ben ritrovati, emergenza coronavirus, stasera ancora zero contagi in Calabria e sono due giorni consecutivi senza tamponi positivi. Per la verità nelle ultime 24 ore, come avviene molto spesso, dobbiamo dire, tra domenica e lunedì ne sono stati processati pochi, 411, ma comunque su 411 non ci sono casi positivi. Vi ricordo l'ultimo sabato scorso un caso positivo in più che ha portato il totale a 1162. Possiamo guardare il report di oggi, da sinistra ovviamente il numero dei soggetti totali quasi 82.400, poi però effettivamente le persone testate, cioè sottoposte singolarmente a tampone, sono state 80.330, ho detto 1.162 i casi di persone trovate positive, zero anche oggi. A domicilio, isolati a domicilio, stasera ci sono 19 soggetti, che sono 9 in meno rispetto ai 28 di ieri. Piuttosto sale il numero dei ricoverati, ce ne sono due in più. Restano i 14 di Catanzaro, con, vi ricordo, una persona in terapia intensiva, il magazziniere di origine pakistana di Venadi Maida, che ha avuto però un infarto del miocardio, e per questo, più che per le conseguenze del fatto di aver contratto il virus che è ricoverato in rianimazione, quindi una persona in terapia intensiva, mentre i guariti sono aumentati, sono aumentati di, dunque vediamo, ci sono 9 guariti in più, 7, anzi 7 guariti in più. Erano 1.021 ieri e stasera sono 1.028. Vi ricordo che a fronte di 1.162 casi, le persone effettivamente ammalate, cioè i casi attivi che vedete sotto il numero 1 dei ricoverati in terapia intensiva, sono 37, quindi in questo momento ci sono 37 persone che hanno accertato naturalmente il coronavirus in Calabria. Per quanto riguarda il dato nazionale, allora, c'è una buona notizia, perché oggi le vittime sono solo 26, non erano così poche, dal 2 marzo, quando ci furono 18 morti. 26 vittime, quindi si scende molto al di sotto della soglia di 50, che era il minimo tra 50 e 100, ci sono stati moltissimi giorni in cui il numero dei decessi ha oscillato in questo range. Quindi 26 morti, secondo i dati della protezione civile, però attenzione perché i contagi stanno risalendo. Sono quasi tutti in Lombardia, ancora una volta, 259 sui 300, tre tamponi positivi rilevati oggi sono ancora in Lombardia e la percentuale è altissima, l'85,4% dei contagi. La cosa che un po' preoccupa è il fatto che i nuovi contagi siano tanti in proporzione al numero di tamponi effettuati, al numero di test effettuati. L'aumento dei casi in Lombardia ha portato il rapporto tra persone positive ed individui testati sopra il 6% ed è una percentuale nettamente superiore a quella dei giorni precedenti. In terapia intensiva si trovano 207 persone, ieri ce n'erano 209, quindi due in meno. Sono ancora ricoverate 3.489 persone con sintomi, sono 105 in meno di ieri, mentre gli isolati sono diminuiti di 258 unità, stasera sono 22.213. Il calo dei malati è stato di 365 unità, ieri addirittura 1.211 persone sono state fatte uscire da questo conteggio, mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore, ieri hanno stati 338, oggi sono 301. Possiamo vedere adesso la schermata della protezione civile. Con le 26 persone morte nelle ultime 24 ore, i deceduti salgono a 34.371. I guariti hanno raggiunto quota 177.010, nelle ultime 24 ore sono state considerate guarite 640 persone contro le 1.505 di ieri. Il totale dei positivi questa sera è di poco inferiore alle 26.000 persone, 25.909, mentre il totale di coloro che ha contratto il virus dall'inizio dell'epidemia è di 237.290. Torneremo a parlare anche di Covid fra poco, intanto però la cronaca perché la scorsa notte si sono sviluppati a Reggio Calabria numerosi roghi di spazzatura, la spazzatura è accatastata ai lati della strada, questi incendi di cui state vedendo alcune immagini hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco per tutta la notte, oltre a quelli di Reggio Calabria, del comando provinciale, sono arrivati rinforzi anche da Villa San Giovanni. I roghi di maggiori proporzioni sono avvenuti nei quartieri Ciccarello e Rione Marconi, quindi stiamo parlando della zona sud della città. Stamattina uno piuttosto grande si è sviluppato invece a Pellaro e qui siamo invece all'estrema periferia, ma i cumuli di spazzatura che ormai da qualche settimana non viene raccolta con continuità dall'Avierre sono stati incendiati un po' ovunque. A Ciccarello è stato necessario anche far intervenire una ruspa, ecco le immagini fra l'altro si riferiscono proprio a questo, per smassare i rifiuti e quindi facilitare le operazioni di spegnimento. Un'altra protesta che adesso è terminata anche perché la raccolta c'è stata, quindi sembra essere rientrata, si è verificata nel quartiere di Collinare di Pietrastorta. Nella notte tra sabato e domenica e anche ieri in parte, gli abitanti hanno utilizzato i rifiuti facendo delle barricate, in questa maniera hanno praticamente tagliato i collegamenti con il centro della città. Una donna è morta stamattina a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Vibomarina, si chiamava Pia Criscuolo ed aveva 76 anni, è stata coinvolta in un incidente tra due auto avvenuto in prossimità di un incrocio su via Senatore Parodi. I soccorsi sono stati immediati, l'ambulanza del 118 è intervenuta, ha portato la donna in ospedale, ma poche ore dopo purtroppo è deceduta. Ecco che torniamo a parlare di Covid, perché oggi il Vice Ministro della Salute Sileri, che normalmente è una persona estremamente moderata e che pesa le parole e i giudizi, è stato un po' più ottimista del solito durante la trasmissione di Radio 1, Rai 100 Città, ha detto che in questo momento non si teme una seconda ondata dell'epidemia del coronavirus, è circa la possibilità di arrivare ad un vaccino in tempi relativamente brevi, si è parlato di questo progetto con l'unità di Oxford che vede impegnata un'azienda di Pomezia, è uno dei progetti più avanti, è uno dei tanti candidati a vaccino, ce ne sono decine in tutto il mondo di progetti di ricerca che sono in fase piuttosto avanzata, ha detto che non è ancora prestissimo, però si è sbilanciato ancora una volta, dicendo che tra fine 2020 e la prima metà del 2021 il vaccino potrebbe essere pronto. Torniamo a respirare, a dire il vero, la situazione va meglio, basta controllare i dati di ogni settimana e si nota che le cose vanno bene, anche quella che è la pressione clinica del coronavirus si è molto allentata, se osservate i dati, prendendo i dati di ieri comparati ai dati di 10 giorni fa, ci sono 2000 ricoveri in meno, è la paura di una seconda ondata, così come paventata settimane fa, al momento non sembrerebbe esserci e quindi sembra che va tutto secondo il programma, anche anche meglio. E se dovesse esserci siamo pronti, Sileri, ad affrontarla? Sì, siamo sicuramente pronti, questo è quello che abbiamo vissuto a febbraio e marzo, non credo che si ripresenterà, anche se dovesse esserci una ripresa della diffusione virale, ma in questo momento non vedo, diciamo attuando i metodi che stiamo attuando, distanza, mascherina, eccetera, non vedo una seconda ondata come la prima ondata, potrà esserci qualche focolaio come stiamo osservando. Non è troppo presto per acquistare dosi di un vaccino del quale non si è sicuro, è giusto andare così avanti e intanto accaparrarsene? Non è che sono state acquistate dosi in termini di, c'è un vaccino che ancora non c'è francamente, diciamo l'Italia come altri paesi europei ha firmato per continuare ad aiutare questa ricerca, credo che i tempi siano in effetti oggi prematuri per pensare a un vaccino disponibile già dai primi di settembre, però è verosimile che vi sarà un vaccino in anticipo rispetto a quello che si pensava, quindi magari fine anno, inizio del prossimo anno. Questa dovrebbe essere la settimana in cui il governo indicherà la data dell'Election Day, regionali, comunali, referendum e da questo dipenderà anche la data di riapertura della scuola e anche per la data di riapertura della scuola le novità potrebbero essere molto vicine. Poi ci sono date che sono già state espresse per le elezioni il 20 settembre, per la riapertura delle scuole il 14 le date confliggono, perché la scuola appena riaperta dovrebbe poi chiudere laddove devono essere allestiti i seggi e poi ci sarebbe anche il tempo per la sanificazione già prima, cioè normalmente le scuole, lo sapete, chiudono il lunedì successivo al, per un giorno almeno, insomma successivamente alle operazioni di voto proprio per la pulizia e poi si ritorna in classe di solito il martedì o il mercoledì se si è votato anche lunedì. Adesso con l'emergenza sanitaria chiaramente questa esigenza è ancora più pressante, sta di fatto che tra le regioni non c'è una volta tanto, diciamo così, concordia sulla, una limità insomma sulla data di partenza. In attesa di sapere come, la scuola tenta di darsi un tempo per capire quando ripartire. La data che il Ministero dell'Istruzione ha fatto circolare e che proporrà è quella di lunedì 14 settembre, ma non tutte le regioni sono d'accordo. Nelle intenzioni del Ministero di Viale Trastevere, come è noto, c'è un ritorno alla normalità col rientro in aula per tutti e lezioni fra i banchi. Le prove generali avverrebbero con l'inizio delle attività di recupero a partire dal 1 settembre. Ma il nodo sulla riapertura è reso ancora più intricato dalla necessità di far svolgere le elezioni regionali e comunali, anch'esse condizionate e rinviate a causa dell'emergenza sanitaria. La data del riavvio dell'anno scolastico, infatti, entra in collisione con l'Election Day che il Governo si appresta ad annunciare ufficialmente e che dovrebbe essere il 20 settembre prossimo. E già questo è un motivo di incertezza, perché c'è chi sostiene che sarebbe meglio votare e poi aprire le scuole e chi accetterebbe di far partire le elezioni per poi sospenderle laddove bisognerà allestire i seggi. Una delle soluzioni prospettate è quella di utilizzare altri spazi per le elezioni, per esempio dei gazebo, risparmiando le aule e permettendo al tempo stesso lo svolgimento delle elezioni senza alcuna interruzione. Anche perché, dopo i giorni di lezione persi quest'anno a causa dell'epidemia, non è proprio il caso di partire subito col piede sbagliato. Ma, come detto, sulla data non c'è concordia fra le regioni e sono molti i pareri discordanti. Per esempio per il presidente del Veneto, Zaia, la riapertura il 14 settembre va bene purché si voti la settimana prima, mentre il Ligure, Toti, dice no ad una ripresa fisarmonica, con aperture e chiusure nel giro di pochi giorni. In effetti il problema non è solo la sovrapposizione delle date, ma è rappresentato pure dalle necessità della sanificazione che richiederebbero altri giorni di chiusura. Il presidente Campano, De Luca, come al solito, usa termini e toni accesi. L'idea di aprire il 14 e poi richiudere nel fine settimana successivo l'ha bollata come demenziale, sostenendo che in questo modo verrebbero totalmente ignorati i problemi delle scuole e delle famiglie. Non va poi dimenticato anche il problema dell'eventuale uso in classe delle mascherine. La permanenza nelle classi varia dalle 4 alle 5 ore, un periodo effettivamente molto lungo per essere sopportato, specie dagli alunni delle prime classi elementari. Si era anche accennato alla possibilità di un'apertura delle scuole per mercoledì 23 settembre, ma il Ministero ha smentito quella data, che era stata diffusa da alcuni organi di stampa, secondo i quali ci sarebbe stato lo slittamento delle elezioni dopo aver tenuto le elezioni. Di sicuro c'è che l'inedita complicazione di procedure e notizie che riguardano la vita della scuola sta incalzando docenti, operatori, studenti e famiglie e producendo una proliferazione di discorsi e riflessioni, anche caotiche. Intanto gli esami di Stato stanno per partire. Lo svolgimento in presenza sarà il vero banco di prova sia sui rischi per la salute che per fare le prove generali della riapertura. A febbraio era stato arrestato il padre di 57 anni ed erano stati trovati due chili di marijuana, un chilo e 200 grammi di hashish, quattro pistole ed oltre 140 proiettili nascosti sotto un cumulo di sabbia. Oggi dell'uomo arrestato a febbraio sono stati arrestati i figli, i fratelli 32 anni e 1 e 30 anni il secondo. Sempre la guardia di finanza li ha arrestati. L'operazione era Dirty Dig, l'accusa anche in questo caso cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed illecita detenzione di armi e munizioni. È stata la procura di Palmi a richiedere gli arresti dopo aver appurato con successive indagini, cioè successive a ritrovamento delle pistole, della droga e delle munizioni, che anche i figli erano pienamente coinvolti nell'attività criminale. È stato arrestato in Romania, dove si era rifugiato da tempo, Viorel Lacatus, 53 anni, che era ricercato in Italia addirittura da 7, da quasi 7, per reati anche gravi, riduzione in schiavitù, maltrattamenti e ricettazione. La riduzione in schiavitù e maltrattamenti li avebbe commessi a Cosenza e decisive per l'individuazione e la cattura di Lacatus sono state le indagini dei carabinieri di San Luca, che poi hanno collaborato con la polizia romena. L'uomo era irreperibile dal 2014, quando la procura di Reggio Calabria aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione, unificando una serie di pene che avevano portato poi il cumulo a sei anni. È ritenuto, ripeto, responsabile di riduzioni in schiavitù, reato commesso nel 2004 e di maltrattamenti in famiglia, che invece sarebbero avvenuti nel 2006. Al termine delle procedure di estradizione, l'ex latitante rientrerà in Italia per scontare la condanna. Gautospurgo non potranno viaggiare fino al 15 settembre su tutto il territorio della provincia di Cosenza nelle ore notturne. Lo ha stabilito il prefetto di Cosenza, Cinzia Guercio, che ha adottato un'ordinanza in tal senso. Il provvedimento è stato preso perché si teme che l'attività abusiva di sversamento dei liquami da parte degli autospurgo possa essere una delle cause di inquinamento del mare, delle acque marine. L'iniziativa è stata presa anche in relazione all'aumento delle presenze turistiche in questa fase e si spera sempre di più nelle settimane che verranno nelle zone costiere e al fatto che naturalmente il mare inquinato potrebbe anche dar luogo a manifestazioni di protesta. Sempre estremamente istruttivo, oltre che piacevole seguire, non è la prima volta che vi mostriamo, due settimane fa mi sembra l'ultima, è stata per farvi capire perché in Italia si processano così pochi tamponi e soprattutto perché mancavano i reagenti. Adesso Milena Gabanelli nel suo Data Room si sofferma su un altro grosso, grossissimo problema della nostra sanità, soprattutto della sanità italiana perché in Europa siamo il paese insieme a Cipro che ha più ceppi batterici antibiotico resistenti attivi, quindi super batteri che non rispondono, anzi se ne fregano proprio, degli antibiotici e questo perché se ne consumano troppi, spesso facciamo autoprescrizione, consumiamo antibiotici in maniera indiscriminata anche quando non servirebbero, nel caso di infezioni virali sono assolutamente inutili perché in ospedale il tasso di infezione è molto alto e ai pazienti se ne dà una gran quantità e poi per gli allevamenti intensivi perché c'è un distanziamento necessario anche nel mondo animale per far stare bene gli uomini, mentre negli allevamenti intensivi gli animali vivono uno accatastati, uno a fianco all'altro, uno sopra l'altro, chiaramente questo poi provoca infezioni e quindi gli allevatori somministrano continuamente antibiotici che finiscono nella catena alimentare. Poche settimane fa Ilaria Capo, firologa tra le più note del mondo, vanto del nostro paese, ha detto che l'alto e anomalo tasso di mortalità del coronavirus in Italia potrebbe non essere del tutto slegato, anzi sull'alto tasso di mortalità potrebbe anche esserci una forte influenza proprio dell'antibiotico resistenza perché la presenza di superbatteri latenti in organismi deboli poi facilita il, tra virgolette, lavoro del coronavirus ed è per questo che la Capo dice non è più solo tempo di virologi ma anche di patologi e di anatomopatologi per capire di che cosa effettivamente sono morte queste persone. Insomma abbiamo avuto una decuplicazione di antibiotici, di scusate superbatteri negli ultimi anni e un grosso problema potrebbe diventare un problema molto simile a quello dell'epidemia da SARS-CoV-2. Le infezioni non hanno mai preoccupato troppo perché c'era sempre un antibiotico che le curava, poi l'industria farmaceutica ha stoppato la ricerca perché dall'elaborazione di una nuova molecola alla sperimentazione sull'uomo passano 10 anni, costo un miliardo di euro e il ritorno economico è di 1 a 100 rispetto ad altri farmaci e così oggi nel mondo occidentale stanno aumentando le infezioni che gli antibiotici in uso non curano più e in Europa, l'Italia è la messa peggio. Le cause, primo ne assumiamo troppi, il 30% è inutile soprattutto nelle infezioni alle vie respiratorie dove 8 volte su 10 di origine virale e poi il 16% lo assume di testa sua. Secondo, consumo di carne o pesce proveniente da allevamenti intensivi dove gli animali vengono somministrati antibiotici a scopo preventivo su larga scala, 4 volte più della Francia, 3 volte più della Germania, su 30 paesi l'Italia è seconda solo a Cipro e poi anche il pollo e la mucca a furia di assumerne alla fine sviluppano batteri resistenti agli antibiotici che passano a noi mangiando carne cruda o poco cotta o semplicemente toccandola per metterla in padella e poi tagliare il pane senza lavarci le mani. Terzo, le infezioni ospedaliere da quelle respiratorie, urinarie e da ferita chirurgica. Se le prendono l'8% dei pazienti ricoverati dopo di noi, solo l'Islanda. Questo perché in troppi ospedali non viene rispettato il protocollo di igiene. Risultato, in Europa ogni anno le infezioni ospedaliere da germi multiresistenti fanno ammalare 670.000 persone con 33.000 decessi, in Italia 200.000 con 10.000 morti. C'è però un piano nazionale di contrasto a tutto questo che prevede prescrizioni più attente, controlli severi negli allevamenti, screening ai pazienti quando vengono ricoverati e formazione del personale sanitario e sorveglianza. Per esempio, quanto disinfettante usi per lavarti le mani? Il minimo raccomandato dall'OMS è 20 ml per paziente al giorno, la mediana italiana è 9 e poi investimenti nella ricerca di nuove molecole. Bene, il piano è del 2017, è entrato in vigore a fine 2019 e poi è stato stoppato dal Covid. Sarà il caso di riprenderlo in fretta. Quindi il Covid fa anche danni collaterali, involontari, temporali, però cambiamo abitudini, usiamo, prendiamo meno antibiotici e soprattutto facciamolo effettivamente quando serve e poi cambiamo le abitudini. Abbiamo sentito che anche in questo caso la solita raccomandazione saggia, insomma di lavarsi le mani è estremamente importante. Bene, per questa edizione telegiornale è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi auguro buona serata, vi ricordo tgcal24.it. Grazie a tutti.